Matera è candidata a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Tra poco si saprà il 17 ottobre se sarà Matera o un'altra delle cinque candidate italiane. Quanto la cultura può essere utile per uscire dalla crisi, soprattutto nel mezzogiorno? Grazie per la domanda. Quando sono venuto qua c'era un tizio che mi ha detto che la cultura si mangia o non si mangia. Allora, primo, non l'ho mai detta quella frase. Secondo, è importante tutto, tutto insieme, la storia, la vita, la tradizione. Non vedo l'ora di leggere questo libro, va bene? I migliori auguri naturalmente. Secondo me, perché no Matera, anzi. Che sono gli altri? Le altre sono, le dico a memoria, se le ricordo tutte, Siena, Perugia, Lecce. Siena ha già avuto abbastanza, Perugia anche, Lecce ha già avuto molto. E poi? Cagliari. Cagliari è bellissima città, devo dire. Matera è molto bella. Anche lei? Ravenna. Ma io devo dire Matera, come riscatto storico, no? È quella che ha sofferto di più prima.